purtroppo è andata così ragazzi ma si sapeva si sapeva salve a tutti benvenuti in questo nuovissimo video sono quest'amico mcd che vi parla e oggi commentiamo foggia ternana finita purtroppo 2 a 0 per la ternana che rimane si conferma ancora imbattuta in europa ed è anche adesso il miglior attacco ha superato il bayern monaco vabbè ragazzi parliamo della partita la ternana ovviamente la terra ovviamente che domina ha dominato letteralmente questa partita il foggia che diciamo che ha resistito 20 25 minuti diciamocelo vabbè la ternana che ha sferato anche il vantaggio con partibilo che si mangia un gol clamoroso veramente davanti a fumagalli e poi trova il vantaggio con il gol di rajcevic la difesa ovviamente sbaglia la palla va un giocatore della ternana fortunatamente perché tipo gavazzi ha spazzato il pallone la palla andata andata sul giocatore della ternana palla in mezzo e rajcevic appunto fa un tiro non troppo forte forse fumagalli è stato un po infastidito dal sole quindi forse sarà stata sarà stato quello che non sarà riuscito a prendere la palla visto che la palla andava proprio lentamente vabbè e la ternana appunto passa in vantaggio la ternana che sfiora anche tantissime volte il 2 a 0 ci sono venuti ci sono voluti tantissimi miracoli tanti miracoli anzi di fumagalli che ha salvato il foggia che oggi veramente se non ci stava lui secondo me sta partita finiva minimo 4 5 a 0 per la ternana e comunque e niente poi la ternana trova anche il raddoppio cross di su calcio d'angolo ovviamente cross di palumbo colpo di testa di partipilo raddoppio ternana meritato ovviamente perché nel secondo tempo il foggia inesistente proprio inesistente poi la ternana dopo il 2 a 0 si si rilassa fa giocare anche un po il foggia che fa solo un tiro però quello di calumbo sinistro a giro poi pallone finito finito alto vabbè poi i migliori in campo del foggia secondo me sono stati veramente fumagalli e io vorrei dire anche rocca ragazzi rocca si sacrifica veramente cioè si sacrifica si sacrifica per la maglia la un'ora la suda cioè ragazzi si stava anche in difesa stava mi pare che mi pare l'ho visto in difesa veramente ragazzi per me rocca non merita di giocare in serie c per me meriterebbe di giocare in serie b minimo perché veramente ragazzi un giocatore è un giocatore forte giocatore troppo forte per questa per questa categoria cioè per me appunto meriterebbe di non stare in serie c ma di stare in serie b cioè forse è anche una fortuna per noi che ce l'abbiamo però comunque ragazzi per me rocca la serie b la farebbe tranquillamente vabbè prossima sfida contro il bari il derby arriviamo con un morale che veramente vabbè arrivavamo anche con un morale così anche all'andata poi abbiamo vinto speriamo che speriamo di fare una bella cioè non una bella ma di almeno onorare la maglia visto che abbiamo il derby abbiamo il bari non è che abbiamo la paganisa abbiamo il bari quindi abbiamo l'onore di 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 onorare di onorare non solo noi ma anche tutta la provincia ma anche ma anche tutta la provincia e anche la città di foggia perché veramente sabato sarà una guerra contro il bari un'altra guerra contro il bari che oggi ha pareggiato contro il catania ha rischiato anche di perdere perché il catania ha sbagliato anche un calcio di rigore catania che adesso si porta anche a più due su di noi che rimaniamo sempre lì al sesto posto a 36 punti proprio dicono che la salvezza è un miraggio però sì vabbè siamo lì almeno quattro però il fatto che abbiamo avuto un calendario un calendario troppo troppo difficile c'è quattro partite sfidiamo le prime quattro della classifica vabbè chissà chi li avrà fatti questi calendari però vabbè ovviamente non c'è ovviamente non metto le scuse del calendario perché il foggia cioè si è visto in campo ha fatto delle partite di merda cioè lo dico onestamente speriamo che col bari si veda qualcosa perché sennò qua va a finire male va a finire troppo male vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto commentate iscrivetevi al mio canale in descrizione link del mio instagram oltre alla sconfitta sempre forza foggia e speriamo di fare di onorare la maglia contro il bari ciao ragazzi ciao